Al GP dell'Eifel di Formula 1 si è fatta la storia, Lewis Hamilton era in lizza per eguagliare il record di vittoria in carriera di Michael Schumacher a quota 91 e al termine del Gran Premio di oggi abbiamo avuto la risposta, Hamilton ha fatto la storia e ha eguagliato effettivamente quel numero 91 di vittoria in carriera tanto prefissato già all'inizio di questa stagione, ancora una volta Hamilton ha dimostrato di saper fare quello che voleva in una gara assolutamente dominata c'è comunque uno sconfitto in questo Gran Premio ed è il suo compagno di squadra Valtteri Bottas che non è neanche arrivato al traguardo ma è evidente che gli onori della cronaca sono per il pilota inglese che evidentemente ruberà tanto spazio in questo Racing Podcast dedicato soltanto ovviamente alla Formula 1 che è tornata due settimane dopo il Gran Premio di Russia Hamilton veniva appunto da un Gran Premio di Russia non brillantissimo, viziato da errori anche abbastanza banali per quanto riguarda le penalità ed evidentemente era in cerca di riscatto, le pretese diciamo non erano però delle migliori perché appunto in qualificazione Valtteri Bottas aveva dimostrato di dare tre decimi al pluricampione inglese e sembrava evidentemente l'unico contender di questa competizione poi Bottas per motivi che vedremo più avanti si è dovuto ritirare, allora da lì non c'è stata veramente più storia Lewis Hamilton ha fatto veramente quello che voleva, ha guidato di fatto col gomito di fuori e ha conquistato in scioltezza e per distacco la novantunesima vittoria in carriera per il pilota inglese è evidentemente questa la pietra migliare della stagione e non sarà di certo il settimo titolo mondiale che era già abbastanza scritto ancora prima di partire in quest'anno 2020 ma la novantunesima vittoria fa la storia il momento poi è stato ulteriormente arricchito da questa immagine, un'immagine significativa perché vedete al termine delle interviste post gara a Hamilton è stato consegnato un casco celebrativo rosso come il pluricampione tedesco Michael Schumacher che è andato appunto ad eguagliare ed è stato un gesto ancora più significativo se pensate che come vediamo da questa immagine il casco di Michael Schumacher o quantomeno nelle fattezze di Michael Schumacher è stato consegnato dal figlio Mick che doveva correre le libere di questo venerdì per l'Alfa Romeo ma a causa diluvio universale non è stato così, Michael Schumacher vi ricordo che al momento è il leader di Formula 2 qui vedete proprio il momento della consegna e torniamo su questa immagine che è evidentemente la più significativa di questo racing podcast e di questo Gran Premio un Gran Premio che Hamilton ha dominato dopo il ritiro di Bottas che è venuto per problemi tecnici, non ha lasciato veramente scampo a nessuno è stata una lotta di fatto inesistente, il dominio di Hamilton è stato veramente mostruoso basti pensare che il terzo classificato di cui parleremo dopo si è preso praticamente oltre un minuto prima che una safety car interrompesse la gara al 40esimo giro prima della ripartenza fino agli ultimi 10 giri è una vittoria veramente che fa la storia, io da tifoso esterno sapete che io sono un gran tifoso ma della McLaren non posso che inchinarmi onestamente di fronte a un fuoriclasse perché per quanto mi riguarda e che se ne dica al netto che guida una macchina nettamente superiore al netto che comunque la Mercedes è stato minato in lungo e largo questi anni per me Hamilton rimane un fuoriclasse, non vinci 7 mondiali per caso, non vinci 91 volte per caso certo anche Hamilton nel corso della carriera ha fatto i suoi errori, ha anche beneficiato di direzioni gare diciamo non propriamente suntuose ma anche di questo hanno soffrito anche altri campioni nel corso della carriera noi stiamo qui per parlare nel merito di quello che è successo e 91 vittorie e questi titoli mondiali secondo me non si possono discutere al netto delle simpatie e delle antipatie io appunto vi dicevo sono un gran tifoso della McLaren onestamente io Hamilton lo guardo con rispetto perché per quanto riguarda la scuderia per cui Tifo è stato l'ultimo pilota a vincere un titolo del mondo nel 2008 in quella famosissima gara di Inter Lagos dove Timo Glock finì le gomme da bagnato di fatto Hamilton superò alle ultime curve di piatta tedesco e purtroppo regalò una delusione ai tifosi della Ferrari spezzando il sogno iridato di Felipe Massa che vinse quella gara in casa e fu campione del mondo soltanto per poche curve poi da lì la McLaren dopo che ha dato via Hamilton non ci ha capito veramente più una mazza Hamilton è andato in Mercedes inizialmente era una Mercedes non dominante era una Mercedes che faceva abbastanza fatica lì Hamilton raccimolò qualche podio e poi dall'era del turbo in avanti cioè dal 2014 Hamilton ha fatto più o meno quello che voleva ha avuto due mondiali dominati e se aggiungiamo questo sono tre e altri due mondiali combattuti uno con Rosberg perso e io in quel caso tifavo per Rosberg perché onestamente mi dava più empatia rispetto comunque al pilota inglese e due combattuti con la Ferrari di Sebastian Vettel che appunto furono poi del 2017 e 2018 e in parte anche quello del 2019 per un Lewis Hamilton che con questa vittoria comunque si avvicinerà a grandi falcate verso il settimo titolo del mondo e anche lì eguaglierà Michael Schumacher il record delle vittorie probabilmente verrà superato in ogni caso la storia è stata fatta oggi 11 ottobre quindi 91esima vittoria di carriera per Lewis Hamilton e per la 90esima volta di carriera suona God Save the Queen il podio lo completano Max Verstappen che ancora una volta si dimostra di essere l'unico che poteva fare qualcosa oltre Bottas ma non in questo gran premio e terza posizione per un sontuoso Daniel Ricciardo che fa il primo podio dopo due anni e mezzo primo della nuova Renault se così possiamo chiamarla ed è un peccato che al posto di Daniel Ricciardo verrà Fernando Alonso alla sua terza esperienza con la Renault e onestamente vedendo questa prestazione di Ricciardo scambiare l'australiano con Alonso è una follia pura le altre prestazioni Sergio Perez con la macchina rosa fa quarto un altro pilota che rischia di non avere posto l'anno prossimo in Formula 1 quinta posizione con la mia McLaren di Carlos Sainz Junior sesta posizione per Pierre Gasly con l'Alfa Tauri settimo Charles Leclerc che fa quello che può ottava posizione per Nico Hülkberg di cui parleremo dopo nona posizione per Romain Grosjean per i primi punti stagionali per il francese e decima posizione per Antonio Giovinazzi che dunque si solleva al sedicesimo posto in classifica con la seconda gara a punti dopo la prima in Austria è un gran premio che per la prima posizione veramente ha detto poco di Hamilton abbiamo già detto tantissimo parliamo però degli altri perché evidentemente al netto che Hamilton e anche Verstappen hanno fatto quello che hanno voluto di fatto hanno fatto pit stop approfittando anche di soluzioni fortunate per esempio la prima virtual safety car c'è da parlare degli altri perché si è rivisto finalmente un Charles Leclerc interessante in quarta posizione addirittura in qualificazione purtroppo la Ferrari come sapete fa abbastanza schifo per usare un eufemismo e il pilota Monegasco ha fatto quello che poteva e ha fatto settimo c'è però da parlare tanto secondo me di quest'uomo Daniel Ricciardo che fa appunto il primo podio della stagione con la Renault che appunto lo ha sacrificato per l'anno prossimo con Fernando Alonso e ancora una volta Ricciardo dà dimostrazione di saperci fare in Formula 1 è un pilota che andrà in McLaren l'anno prossimo e noi della McLaren avremo la coppia più simpatica dell'anno ovvero Russell Ricciardo ed è una testimonianza incredibile di crescita e della costanza del pilota australiano perché da Spa in poi Russell, scusatemi Ricciardo ovviamente non è uscito dai primi sei segno che comunque la Renault non è una macchina ferma in ogni caso speriamo che il pilota possa comunque continuare su questa strada anche se un podio è veramente difficile perché si sono ritirati tantissimi piloti che potrebbero andare davanti a Ricciardo, mi viene in mente per esempio Ocon mi viene per esempio lo stesso Bottas soprattutto anche Albon insomma tanti ritiri nelle prime posizioni ma ovviamente il premio Calimero, il premio Sfiga lo diamo a Valtteri Bottas che veramente deve recriminare tantissimo e penso stia ancora bestemmiando in un grofinico stretto perché già a partire dalla pole position dando tre decimi Hamilton non da tutti segno che Bottas quando vuole in qualificazione dimostra di saperci fare era primo nei primi giri dopo una partenza sontuosa il problema è che da un errore in curva 1 le sfighe si accumulano per il pilota finlandese che poi avrà un problema tecnico evidente sulla sua monoposta dovrà addirittura ritirarsi di fatto dando addio a un mondiale che matematicamente lo vedeva in corsa ma che di fatto come dicevo all'inizio non l'ha mai visto in questa direzione è considerato che Bottas di fatto è un po' come il barrichello ai tempi di Schumacher quindi una seconda guida che fa il suo podio ogni tanto le sue vittorie ma che difficilmente può competere per un titolo del mondo il vero antagonista di Hamilton secondo me è sempre Verstappen che però paga tanti zeri di troppo evidentemente tre in questa stagione con questi piazzamenti Hamilton va a 230 punti Bottas è anche lui after the music con 161 Verstappen probabilmente continuando con questo rimbo potrà puntare alla terza posizione assoluta nel mondiale che di fatto è già sua ma probabilmente lo step sarà arrivare al secondo posto dietro a Hamilton e davanti a Valtteri Bottas il primo degli altri è Daniel Ricciardo che dà 10 punti a Sergio Perez ma in tutto questo il mio driver del giorno non è né Ricciardo né Perez né tantomeno Hamilton anche perché di Hamilton ho già parlato abbastanza ma voglio parlare di quest'uomo ovvero Nico Hülkenberg perché il pilota tedesco ha fatto veramente qualcosa di straordinario Nico Hülkenberg è stato chiamato addirittura il sabato mattina direttamente per partecipare alle prove visto che Lance Stroll non stava bene dopo le terze libere dunque serviva il pilota sostituto che ha già corso due gare che stanno Hülkenberg è stato chiamato in fretta e furia era alle 11 di mattina del sabato quando il pilota da Colonia si è dovuto trasferire di corsa al Nürburgring per salire in macchina e arrivare alle qualificazioni ovviamente visto che Hülkenberg probabilmente non ha fatto le libere e si è visto ha fatto ventesimo in qualificazione ed è arrivato ottavo per un pilota che ripeto non doveva neanche essere qui io mi immagino veramente Hülkenberg a casa sua che stava giocando alla Precision probabilmente a Formula 1 2020 bevendosi una tazza di caffè che riceve la chiamata del patron della Racing Bank che gli dice viene a correre subito perché Lance Stroll sta male questo si è fiondato e da ultimo è arrivato ottavo davanti a piloti comunque che fanno regolarmente parte del circuito di Formula 1 vedi per esempio Raikkonen vedi per esempio anche Sebastian Vettel che ancora una volta ha fatto una prestazione degna del suo nome odierno cioè abbastanza orrenda addirittura ha finito fuori dai punti ancora una volta 11. posizione per il pilota tedesco di cui manca sempre una gara in meno alla fine di questo 2020 in modo che poi si trasferisca alla Ston Martin il Vettel ancora una volta anonimo addirittura il nostro Antonio Giovinazzi ha fatto meglio di lui e sono contento per Antonio sperando che questa prestazione possa garantirgli un sedere l'anno prossimo anche se pare che vengano promossi alcuni piloti della Formula 2 vedi per esempio Schwarzman vedi per esempio Schumacher Junior in tutto questo la Formula 1 tornerà tra due settimane a Portimao circuito dove ha corso già la Superbike in questa stagione sono molto curiosi di vedere le Formula 1 sul circuito Portoghese un circuito veramente molto carino non possiamo non chiudere però ancora una volta celebrando il fuoriclasse che è Lewis Hamilton con la 91esima vittoria della carriera per lui ripeto suona il Ghost Save the Queen fatemi sapere cosa ne pensate del record di ambito della gara in sé che per la verità è stata abbastanza orgnosa se non per alcuni spot che ho raccontato in ogni caso il Racing Podcast termina qui e aspetto nel caso le vostre opinioni il saluto da parte di Matthew Torger vi ricordo anche la programmazione dei video sportivi sul mio canale domani parleremo di MLB visto che sono arrivate le finali di conference dunque ci sarà da aggiornare il nostro tabellone e poi martedì parleremo delle moto mondiali che ha corso sempre questa domenica alle man circuito Bugatti ancora una volta il saluto da parte mia e ci vediamo dunque domani con il prossimo video grazie a tutti